Ciao raga, i pesci di Asia, ciao, pesci? No, non mi salutano. Oh, svegliatevi. Allora, quello arancione, chi è? È Bob. Per lei è? Per te Giulia? Per me è Bobby. Invece quello, argento, violetto, bianco, quel colore che è, è Saturno. E per lei è? Gino. Gina, perché è una femmina, tecnicamente. Sì, è una femmina, però io le recito maschi. Le recito maschi. E hanno fatto i figlioletti, facciamo vedere i figlioletti. Sì, sono in basso. Aspettate raga. Raga, questi sono i figlioletti, non si vedono neanche da quanto sono piccoli. Beh, vedono si vede proprio da te camera, però... Cioè, si... Sarebbe bello far vedere la vita reale, però non si vedono. Veramente, però non riesco. Raga, perché l'acqua è abbastanza putrida. Però il problema è che cambiarla, non mi sembra il caso, cadono neanche i figli. No, beh, andiamo a cambiare mio papà. E i figli? Ecco, guarda, si vedono... Non so se si vedono. È vero, si vede un figlioletto. Vedo, guarda, lo vedo, lo vedo, lo sai? Così mi fai il video storto. Ecco, forse... E vabbè, ma il video è storto, cosa girano? Niente! No, stai ferma. Questo qui è figlioletto, mi sembra. Un buono, non si vedono tanto. Questo qui, vabbè. Questo è. Torniamo sui pesci grandi. Raga, ho preso un'altra angolazione. Mi caccio il mio piede, forse. No, non si vede. Prova. Eccolo il mio piede, eccolo. L'avete visto? Ciao! Non si vede più. Ciao, raga, facciamo così. Vabbè, dopo questo video, un po' stupido è tutto. Esatto, abbiamo voglia di farlo. Quindi vi salutiamo. Ciao! Ciao! Ciao!